Sono Antonella, per chi non mi ha conosciuta fisicamente ma solo il telefono o via e-mail Carlo Lesba, grazie, tutte queste donne dormono con te di notte Lei fa anche lavoro sull'astrologia, quindi in base alla data di nascita, in base all'ora esatta della data di nascita, lavora sui pianeti. Mi piace presentare questa idea, la cartelletta che non è stato un mio pensiero, non è stata una mia intenzione, anche la matita, è stato frutto di un'intenzione di una partecipante che ha fatto il primo corso con noi sulla forza delle intenzioni a Bologna e da lì ha avuto proprio un cambiamento, una rivoluzione interiore che gli ha permesso di decidere di fare un corso nella sua zona che lei è di Perugia Dimmi com'è andata la giornata È stata stupenda, ecclesiastica, posso dirlo? Eccelsa, ecco, eccelsa Questo logo che cos'è? Anche qua entriamo nel caso specifico Mi è sempre piaciuto ricercare quello che c'è dietro il logo, come simbolo poi interpretativo in base a quelle energie che possiamo trasmettere, tant'è che il primo logo che ho fatto era un leone stilizzato, però non c'era quella cosa che richiamava di più il mio nome e cognome Poi sono andato a un corso ad Alghero, c'era un grafico a fianco a me, al tavolo nel giro di quattro secondi, infatti piace, e ha creato lui questo logo Ognuno gli dà la sua interpretazione, come vedete dietro la simbologia c'è dietro la nostra personalità Per tutto oggi era stupendo, era bello, sapevo già che era bellissimo perché basta seguire Carlo Lesmo sul video, sai già, prima che vieni bello Ma qua era, non ho parole, era stupendo, anche te Peppe sei Poi tutti qua, tutti stupendo, io ringrazio Dio che ho incontrato tutti qui, grazie L'intenzione è un insieme di queste cose che avete detto e nasce principalmente da un desiderio, cioè desidero quella cosa, lo desidero veramente Sempre splendido, veramente, mi piacciono le meditazioni così pratiche, terra terra è una cosa squisita secondo me, grazie infinite Ciao Battevo il cuore prima, boh, ma a me sembra che venivo fuori, hai sentito? Incredibile, proprio era vero, eh? Come è andata la giornata? Gioia pura, amore puro, e ho incontrato il mio anno Come è andata la giornata? Benissimo, giornata fantastica con persone fantastiche Grazie Grazie Oggi Secondo me è andata benissimo, oggi mutante, belle energie, poi Amore Grazie Grazie Grazie